Buongiorno, ben svegliati, buon lunedì, ben ritrovati con Mattino 6, la rassegna stampa della nostra redazione, questo lunedì 6 gennaio, giorno dell'epifania, vi auguriamo una buona epifania ovviamente, ma siamo pronti già per leggere le principali notizie dei quotidiani abruzzesi, ma non solo, oggi ovviamente lunedì ha ampio spazio anche allo sport. Cominciamo con le prime pagine, allora andiamo in casa nostra, ovvero con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, queste sono le quattro edizioni del quotidiano Il Centro, una per provincia con cui apriamo, questa è quella di Pescara che apre con questa notizia di cronaca, anziana scippata, allarme in centro, Pescara sorpresa da un aggressore a piedi, era già accaduto in viatasso. In alto leggiamo anche i box che riguardano la politica nazionale e internazionale, poi ovviamente non lo faremo su tutte e quattro le edizioni, ovviamente cresce la tensione, il generale Soleimani ucciso dagli USA diventa martire dell'Iran, questa è una notizia che ovviamente aprirà tantissimo, la tensione tra USA e Iran aprirà tantissimo, le prime pagine dei quotidiani nazionali che tra un po' vedremo. Alto Adige, ubriaco in auto, fa strage, travolti uccisi sei ragazzi, scatta l'arrestato che vedete in foto, Stefan Lechner. A centro pagina siamo a Villanova di Cepagatti, il ruolo distrugge l'azienda, il titolare dice è doloso, 15 famiglie senza lavoro, un incendio, ieri all'alba ha colpito la Isolbit di Villanova di Cepagatti, specializzata in riciclo di plastica. I vigili del fuoco hanno impiegato, pensate, 14 ore per domare le fiamme, la titolare dice al sindaco è un atto doloso. Nei box che vediamo nelle cronache, Pescara, tasse locali, il comune ha scoperto 2600 evasori. Gli eventi, ovviamente la Befana, Feste al Porto Turistico, a Montesilvano e a Spoltore. A proposito di Epifania, come vediamo sotto la foto notizia, Lotteria Italia, l'Abruzzo Sogna, stasera l'estrazione, domani sul centro tutti i numeri dei biglietti vincenti. Ovviamente in bocca al lupo a chi ha un biglietto. Il lunedì dello Sport, in questo super box, contrassegnato dal Rosso, caccia al bomber, siamo in casa Pescara, i consigli degli ex per il Pescara. Poi vedremo i consigli, sia di Sanzo Vini che vedete in foto, e peraltro ha segnato di nuovo Rebonato e Cammarate che hanno fatto anche le carte al mercato biancazzurro con la Serie B che in questo momento è ferma per la sosta post natalizia. Palla a nuoto, Francesco Di Fulvio, migliore atleta del 2019. Poi per la Serie A la Roma va a K.O. con il Torino, invece bene la Lazio che ha vinto a ora di pranzo contro il Brescia, oggi c'è il resto della giornata in Serie A. Ma cambiamo edizione del centro, andiamo su quella di Chietiranciano Vasto che apre con gli operai della Sever che chiedono più sicurezza dopo la morte del 28enne, domani assemblea con i sindacati. Come vedete la foto notizia è sempre quella che riguarda la Isolbit di Villanova di Cepagatti, cambiano i box nelle cronache, Movimento 5 Stelle siamo a Chieti tre giorni per decidere il candidato sindaco, il 9 gennaio chi vuole candidarsi deve depositare il proprio nome sulla piattaforma Russo. A Ortona influenza all'ospedale è già boom di ricoveri nel reparto di medicina, già 33 presenze rispetto ai 30 posti retto normalmente a disposizione. Il lunedì dello sport si apre con il postiscipo in Serie D perché oggi tra Chieti e Vastese sarà un derby. Per ripartire si gioca alle 14.30, si gioca a Dortona, gioca come vediamo in alto anche il Lanciano e questo è Pino Di Meo che vedete nella foto, il grande ex, ex tecnico della Vastese oggi sulla panchina nero-verde. Per il basket Esacchieti domina e torna alla vittoria e poi qui vediamo sempre il box relativo alla Serie A con il capo della Roma, la vittoria della Lazio che abbiamo letto prima. L'edizione teramana del centro, l'apertura sui saldi che ridanno speranza ai negozi, commercianti soddisfatti, oggi il bis con la fiera dell'Epifania. La foto, curiosa, particolare perché il governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio fa il falconiere a Civitella del Tronto, il governatore alla manifestazione con il noto falconiere Giovanni Granati. Nelle cronache, tre colpi a Pineto, ladri in fuga, abbandonano la fiamma ossidrica, una banda di ladri ben organizzata che ha messo a segno tre colpi, due andate a segno, uno lasciato a metà. A Teramo muore il medico Roberto Ripani, un mese dopo il fratello, era nefrologo all'ospedale proprio di Teramo. Nel box, siamo allo sport, le parole che riguardano il Teramo di un ex recentissimo a Genore Maurizzi che dice Teramo devi cambiare passo. Per il basket serie A2 pesante K.O. di Roseto a Imola contro un ex come Emanuele Di Paolo Antonio e poi ovviamente ritroviamo il box relativo alla serie A. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana, l'edizione aquilana, festa in centro con le bancarelle all'Aquila mediale di visitatori per la tradizionale fiera dell'Epifania. La foto a rivisondoli in 5.000 per il presepe successo della rappresentazione sacra. Oltre 5.000 spettatori per quella che è l'edizione numero 69 del presepe vivente di Rivisonde, è assolutamente uno spettacolo. Nelle cronache siamo ad Aielli, addio a Sara Sforza tra rose e bianche e palloncini morte in uno schianto giovedì scorso contro l'auto guidata da una straniera sotto effetto di alcol e droga. All'Aquila clown in corsia e tanti amici in lacrime per Rossella Fiorello, la dottoressa volontaria di 31 anni. E poi lunedì dello sport, visto che siamo sull'edizione aquilana, l'incredibile pari dell'Avezzano che strappa un punto a campo basso 2-2, bagnando in maniera positiva, seppur in extremi si ritorno di Antonio Mecomonaco che vedete nella foto. E poi per la promozione invece l'Aquila Super tra campionato e Coppa Italia, nella foto vedete il bomber dei rosso-blu Pasquale e Maisto. Cambiamo quotidiano, andiamo sulle colonne del messaggero, ovviamente la pagina dedicata alla regione Abruzzo. Nube tossica in Val Pescara, allarme in 5 comuni per gli effetti dell'incendio scoppiato all'alba alla Isolbet di Villanova. Vigili del fuoco a lavoro per ore, i sindaci ordinano misure di sicurezza positivi i primi test dell'Arta. Qui rivediamo la ricostruzione anche fotografica di quanto è accaduto. Sotto la testata il personaggio Gabriele Tarquini, a 57 anni, vuole vincere il Mondiale. Serie B Pescara, prove di armistizio tra Zauri e Memusciai dopo la mancata convocazione dell'ultima partita contro il Chievo dopo il battibecco di Livorno. Serie D, notaresco ancora superbo, Giulianova pari e delusione. Lavezzano riesce miracolosamente a conquistare un pareggio in trasferta. Pineto non basta Mauro, oggi il grande derby nel posticipo, Chieti-Vastese. Il nodo A14 che vediamo di spalla, lunghe code e nubifragio, sarà un controesodo per chi torna a lavoro anche dopo il ponte dell'Epifania, davvero da incubo. Speriamo che non sia così. A centropagina, il giorno del dolore, i mille ad aielli per l'addio a Sara, bandire lo spaccio, durissima l'omelia di Don Luigi Incerti. Al funerale della ragazza è anche uno striscione per chiedere giustizia proprio per Sara. In seguimento e sparatoria, un bimbo ricoverato, l'uomo arrestato dopo la fuga di sabato sera, aveva acquistato cocaina al ferro di cavallo. L'incontro, ovindoli, i lupi ballano sulle piste da sci e poi in basso l'Aquila, la tradizione, fiera e piadine per l'Epifania. Andiamo sui quotidiani nazionali. Come vedremo, ci sarà molto spazio, tantissimo, quasi tutto in apertura per la questione USA-Iran. L'Iran lascia gli accordi sul nucleare. L'annuncio, arriccheremo l'uranio senza limiti e l'Iraq vota. Le truppe americane si ritirano, venti di guerra, folla ai funerali di Soleimani, minacce agli Stati Uniti da Teheran e Beirut. Trump dice, pronti a colpire 52 siti. E poi, a centropagina, Alto Adige, la festa, poi ubriaco al volante, uccisi 6 ventenni. Travolto un gruppo di turisti tedeschi, Angela Merkel, dice sconvolgente. E poi c'è l'analisi di Beppe Severnini, la strage silenziosa, che si riferisce proprio a questo evento, che però nessuno ferma. La Repubblica, l'intervista al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che dice i nostri soldati restano, il Premier sui venti di guerra, USA-Teheran preoccupato per i militari sul campo. Sì, ha una missione europea. Non mi monto la testa per i sondaggi. Priorità del Governo, gli aiuti alle famiglie e la riforma dell'IRPEF. Dossier autostrade, emerse negligenze gravi e imperdonabili. E poi, di spalla, le parole di Rula Jebral, che si pensava potesse partecipare a Sanremo, invece pare non sarà così. A Sanremo la mia diversità, dice, fa paura. A centropagina, Bagdad cacciamo le truppe americane. L'Iran si ritira dal patto sul nucleare, abisso Libia, a rischio il viaggio di Di Maio. Anche qui su Repubblica troviamo la strage in alto Adige, ubriaco in auto, fa strage. Muoiono sei ragazzi in vacanza, erano sei turisti tedeschi ventenni. Il fatto quotidiano, gli iracheni a casa, le truppe occidentali, accontentiamoli. Dopo il raid, razzi sull'ambasciata americana a Bagdad, l'Iran, la vendetta è pronta. E poi, abbiamo decisamente argomento, l'intervista a Paolo Sorrentino in alto. Ecco come il Papa vive nel privato. Il regista presenta la nuova serie The New Pop. In Brasile, Rio, Favela, si è rivolta dopo l'omicidio della piccola Agatha. Inchiesta Media Part sulle morti per mano della polizia. Sempre per quanto riguarda la questione USA-Iran, il governo italiano dice che nessun ritiro senza accordo con gli Stati Uniti. Questa è la reazione di Roma. Il giornale, che invece dedica l'apertura ad altra questione, ovvero il conto segreto di Di Maio e Soci. Nessuno può vedere che fine ha fatto. Il denaro dei rimborsi, settimana di fuoco, prescrizione e Gregoretti. Queste sono le spine in casa Cinque Stelle. E poi, alcol assassino, sei morti sulla strada. I ragazzi tedeschi sono stati travolti da un guidatore ubriaco. C'è anche una statistica, record nero per l'Italia. Ubriachi al volante, duemila morti l'anno. Andiamo su Libero. Scoppia il tifo per l'Islam, dice il Quotidiano. Abbiamo i talebani in casa. Governo, giornali e Tg piangono per l'eliminazione del boi iraniano antisemita per evitare le ritorsioni di Teheran. si prostrano verso la Mecca, mostrando il sedere a Stati Uniti e Occidente. E poi, in basso, la moneta unica compie 18 anni. L'Europa costa 1000 euro a famiglia. Stavamo meglio prima. Il messaggero, la prima pagina nazionale, l'Iraq, dice via. Le truppe americane, il Baghdad, il Parlamento contro la Nato, Yesbollah all'attacco. Timori per gli italiani in Libano, dall'Iran minaccia nucleare, Trump pronti a colpire 52 obiettivi, 3 militari USA uccisi in Kenya. Il conflitto in Nordafrica, Libia sbarcati i primi soldati turchi, il vertice con l'Unione Europea verso il naufragio. Spine della maggioranza, autostrade, Movimento 5 Stelle, avanti con la revoca, Vettorenziano, 1000 proroghe a rischio. E poi, la strage in Alto Adige, ubriaco, travolge e uccide 6 ventenni. Andiamo avanti con la verità. La maxi inchiesta sul CSM rischia il flop, ma intanto la sinistra si è presa tutto, la sorte dell'indagine che doveva terremotare le toghe. Renziani e Grillini, uniti per la Jebral, la RAI deve portarla a Sanremo. E poi in basso, l'Iraq chiede agli Stati Uniti di ritirarsi. L'Iran usa i funerali di Soleimani per minacciare l'America e riprendere i test atomici. La stampa, Libia salta la missione europea, allarme del Premier Sarraj. Non venite, è un rischio. svolta della Farnesina che guarda ad Haftar, il doppio fronte della crisi, in bilico anche la conferenza di Berlino, mentre arrivano i soldati di Erdogan. Baghdad, via i soldati USA, l'Iran riprende la corsa all'atomica. Questa è la foto delle migliaia di persone in processione in Iran per commemorare il generale Soleimani. Il tempo, il vero sequestro dei migranti, i fatti della Gregoretti che fingono di non sapere. Salvini li ha tenuti sulla nave solo per quattro giorni e mezzo, ma dopo allora è andata peggio per settimane il conte bis, con il conte bis quasi tutti, ancora a Pozzallo, secondo un report in prigione. E poi hanno quasi tutti la coscienza sporca, per questo non leggono le carte, faranno una scelta solo politica. E poi Trump all'Iran, se ci colpite la risposta sarà dura, in basso, quando chiedono soldi, sardine con piazze vuote, e poi Sanremo, no alla Jebreal e la sinistra, si ricompatta. Vediamo adesso le prime pagine dei quotidiani sportivi, perché ovviamente il lunedì è anche il momento per fare il punto sullo sport dopo. Di fatto solo un piccolo assaggio di ritorno di Serie A, perché il grosso ci sarà proprio oggi, nel giorno dell'Epifania, e allora la Gazzetta dello Sport si chiede perché arriva la Befana. è il duello a distanza, in testa alla classifica, è il ritorno di Zlatan, dolce o carbone, però vediamo Gattuso Conte, una notte da duri, l'Inter a Napoli, rilancia Sensi, è un esame scudetto. E poi due protagonisti, vediamo ai lati, CR7, Codino da Samurai, la Juve due sfide, 5 di fila in gol, e il tabù Cagliari. E poi Ibrahimovic, la lunga attesa dei 60.000 a San Siro, dopo 2.794 giorni, è pronto a tornare a vestire la maglia rosso-nera. In basso per il mercato, Lobotka rompe col Celta Vigo, perde Laurentiis, Messi vuole tenere Vidal, Marotta offre un anno in più. Ma in alto, le partite che si sono giocate, toro-toro, il Gallo, Belotti, canta due volte e stende la Roma. E poi questo, vergognatevi, due insulti e furia Balotelli, poi la Lazio al 91.000, supera la prova del 9, grazie alla doppietta di Ciro Immobile. Miracolazio, infatti, qui siamo proprio in casa Bianco Celeste, altra vittoria oltre il 90.000, la Vetta è a soli tre punti di distanza, Brescia sconfitto 2-1, grazie alla doppietta di Immobile. Con il nono successo di fila, Inzaghi e Guaglia, Ericsson lo scudetto, è normale che le aspettative crescano, Balotelli segna e denuncia i cori, contro Vergogna, il segno della crescita, dice il direttore Ivan Zazzaroni. La Roma invece cade sul più bello, doppio Belotti e il Toro fa festa. Napoli-Forsarri, gli azzurri al San Paolo provano a fermare l'Inter per favorire la fuga del loro ex allenatore, poi quanto sia vero è tutto da verificare, che guida la Juve, che alla guida della Juve, dà l'assalto invece al Cagliari. In basso Milan, Ibraimovic in panchina, titolare c'è Piontek, Zlatan a San Siro, missione sorriso. Chiudiamo con Tutto Sport, per questa che è un'operazione scudetto, Juve-Cagliari e Napoli-Inter, scatta un ciclo di fuoco, che può risultare decisivo per la lotta al vertice. Sarri tentato dalla conferma del tridente, Conte aspetta Vidal, oggi incontro Super Gallo, Grande Toro, Belotti strepitoso, segna una doppietta e stende la Roma, regalando Granato una vittoria che potrebbe rappresentare la svolta della stagione. Lazio Immobile, non ha da record, non ha vittoria consecutiva, balo insultato, dice vergogna. Tutti a San Siro, riecco Ibraimovic-Zlatan, accende Milan-Sampdoria, e poi Coppa di Sci per lo Slalom, Festa Vinazzer, è il primo podio. Bene, noi ci fermiamo per questa prima parte, adesso spazio alle previsioni del tempo, la pubblicità, poi torniamo insieme per entrare all'interno dei nostri giornali. Seconda parte di mattino 6, siamo pronti per cominciare a sfogliare i giornali di casa nostra, ripartiamo dunque con il centro, il caos in autostrada, avete questa doppia pagina, poi entriamo anche sulla pagina di Pescara, però la A14, chiusa per una notte, come se non bastasse, tra Ortona e Valdisangro, lavori tra mercoledì e giovedì, delusione e rimborsi, il massimo è meno di 13 euro. Sotto, stasera, la Lotteria Italia, l'Abruzzo Sogno, un anno fa la nostra regione si accontentò di un monte premi di 175 mila euro. Oggi si può fare di più, vedremo se poi sarà così. Andiamo sull'altra pagina, perché vediamo, paura a Villanova di Cepagatti, azienda a fuoco, atto doloso, 15 famiglie sono senza lavoro, rogo all'alba, distrugge la Isolbit, fabbrica specializzata nel recupero e riciclo di materiale plastico. La titolare disperata dice così, ci hanno ucciso, l'arta assicura, nessuna emergenza ambientale. E questa ovviamente è una notizia che apre anche la pagina, vediamo, di Pescara del messaggero, il rogo e la paura, nube di fumo, avvolge la vallata. Rogo all'alba, la Isolbit di Villanova, azienda che tratta scarti di materiale plastico, misure di insicurezza disposte dai sindaci e poi emergenza da Cepagatti a Pescaracchietti, il WWF accusa, sono poche le centraline. In basso, il sabato di Rancidelli, ricoverato il bambino ferito nell'inseguimento, compra covenaino al ferro di cavallo e semina il panico, viene arrestato. Questa è la pagina di Pescara che riprendiamo sul centro, sicurezza, un altro colpo in città, torna l'allarme scippi, in centro, anziana derubata della borsetta, via la regina Margherita, pensionata sorpresa alle spalle da un giovane a piedi, bottino 40 euro, rimasta ferita lievemente a un ginocchio, episodio simile un mese fa al Tasso, e lo stesso uomo, si chiede il quotidiano. Il fuggitivo intanto voleva speronare i carabinieri, poteva causare una tragedia, il giovane di Manopello, arrestato dopo l'inseguimento, non ha la patente, quello che vedete nella foto è la torcia sequestratagli. Cambiamo pagina, i controlli, i tributi locali, tasse sui rifiuti e sulle abitazioni, il Comune scopre 2.600 evasori, presentati i risultati, delle attività di accertamento, condotta da gennaio a dicembre dell'anno scorso, le imposte non versate superano i 5 milioni, l'Imo al primo posto per le irregolarità riscontrate. Questi sono nel riepilogo i controlli anti-evasione del 2019. Per quanto riguarda la Tari, rischi aumenti con le nuove regole, l'amministrazione comunale costitata a rivedere le tariffe, dopo le modifiche alla legge nazionale. L'addio di penne al giovane ucciso, dolore, compostezza, i funerali di Marco Cervoni, un amico dice che era un buono di cuore, non meritava di finire così. Nella pagina accanto, la Befana al porto turistico, pronta la festa con 30 cavalli, stamane il tradizionale appuntamento organizzato dalla società di salvamento, che vi abbiamo raccontato anche sabato, nel corso del nostro telegiornale, le 11 l'arrivo della vecchina dal mare, poi caramelle dolci gratis per i bambini. in alto a Spoltore, Befana a volante, Pompieropoli oggi all'arca. Altre notizie, oggi alle 16 i vigili del fuoco fanno scendere la vecchina dall'alto in piazza Salotto, cerimonia solenne per il tricolore, domani invece le celebrazioni per l'anniversario della bandiera italiana, manifestazione in comune con autorità e studenti. In basso da Fratelli d'Italia, doni e bimbi ricoverati, visita in pediatria e poi 5 stelle regalano giocattoli ai più piccoli, oggi dalle 10 alle 19 in corso Umberto. A Chieti, la pagina è di Chieti, ma in realtà siamo ad Atessa, perché torniamo sulla morte in fabbrica alla Sevel Assemblea contro gli incidenti. I rappresentanti sindacali si riuniscono per discutere della tragedia dell'operaio, i Cobas accusano ritmi troppo stressanti. Queste sono le reazioni alla morte di Cristian Terilli. Rifugio isolato, siamo a rapino, Movimento 5 Stelle, danno per il turismo, la deputata Torto e il consigliere Taglieri chiedono di riaprire la strada che conduce al Pomilio. Qui siamo invece proprio a Chieti, perché candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, tre giorni per la scelta. Entro il 9 si possono proporre nomi sulla piattaforma Rousseau, poi si aprirà lo spazio per gli aspiranti consiglieri. Torto dice, ci sarà cambiamento. Ortona, arriva l'influenza, l'ospedale è già sovraffollato, ricoveri in aumento, invaso il reparto di medicina. In basso, Polo Culturale, coro di no contro la chiusura, polemica a vasto, il PD si schiera contro la regione, appello alla Lega per sventare la soppressione. All'Aquila, fiume di gente in centro per l'assalto alle bancarelle, caccia alla piadina più buona, tra quelle preparate ai 14 stand. Lungo il percorso, spazio anche ai vegani, prodotti locali e artigianali, portafogli spariti e denunce, tra le altre cose, in questa giornata. In basso, in 5 mila, per la magia del presepe, rivisondoli un grande applauso, ha salutato la fine della rappresentazione diretta dal regista Ortis. Ad Aielli, tante rose bianche e palloncini in volo per l'addio a Sara. Don Luigi è rimasta vittima della scelleratezza umana. Il maestro corteo, accompagnato dai sindaci del territorio. Intanto è attesa a Sante Maria e convediamo per l'ultimo saluto all'operaio 62enne italonanni morto in un frontale. In basso, clown in lacrime per Rossella, Ercolina, L'Aquila, nasi rossi e palloncine ai funerali della volontaria che portava sorrisi ai bambini. A Teramo, avvio dei saldi ok. I negozianti si dicono soddisfatti corsa agli acquisti nonostante il Black Friday di un mese fa anche oggi si prevedono molti affari con la fiera dell'Epifania. Per la crona che invece ladri in fuga lasciano la fiamma ossidrica tre colpi a Pineto in uno i malviventi cercavano di aprire la cassaforte ma è tornata la padrona di casa. torniamo sul messaggero prima di aprire l'amplissima pagina di sport anche qui l'Aquila fiera dell'Epifania boom e pochi abusivi migliaia in centro storico fin dalle prime ore del mattino vediamo anche le foto che insomma testimoniano di quanta gente ci fosse alla fiera e ha funzionato il piano del questore contro chi era senza licenza 30 bancarelle in meno rispetto alla scorsa edizione ma l'evento è stato contrassegnato da una maggiore vivibilità e a passeggio tra gli stand anche il governatore Marsiglio il sindaco Biondi e l'assessore Liris alcuni borseggi come abbiamo letto anche sul centro sequestrata solo la merce taroccata in basso crisi in comune chiesta una verifica politica il primo cittadino ha disertato il vertice che si è svolto senza particolari tensioni siamo ad Aielli Sara era la nostra principessa lutto cittadino da Aielli mille persone all'addio della ragazza tra volte uccisa da un magrebino sotto l'effetto di alcol e droga duro il parroco bandire gli stupefacenti allo spaccio striscione alla partita dell'Avezzano per chiedere giustizia per questa ragazza davvero sfortunata in basso a Sulmona casa vacanza fantasma truffato un gruppo di turisti abbiamo versato 1500 euro di acconto ma nell'abitazione di Roccaraso c'erano due anziani non torneremo più dicono la pagina di Chieti rifugio Pomiglio senza strada al Movimento 5 Stelle un colpo al turismo il consigliere regionale Taglieri attacca provincia e regione in video su Facebook l'appello denuncia dell'onorevole Torto Odissea sulla 14 vediamo di spalla mercoledì notte chiude il tratto tra Ortona e Val di Sangro scendiamo la tragedia morto alla Sevel sicurezza sotto accusa avviso di garanzia per sei referenti delle tre aziende autopsia sul corpo di Terilli sospeso un turno di lavoro in basso siamo a vasto la penna a salvare l'agenzia culturale e poi sempre a vasto la Befana volante nel centro storico a terra mostrisce pedonali scomparse per i lavori fibra ottica e caos i vigili urbani non sanno che fare perché manca una normativa ad hoc in via Veneto non ci sono neanche le segnalazioni riservate agli invalidi le parole di Leo Iachini già i nostri spazi sono così pochi sono pochi così rischiamo di chiudere e poi i ladri siamo a Giulianova fanno la festa a Palaeventi e Casette svaliggiate proprio a Giulianova altre notizie Pineto ha provata la pista Bike to Coast e poi a Tortoreto arrivano i fondi per la missione per le emergenze e poi sempre a Giulianova morì travolto da un'auto ma l'investitrice non fuggì apriamo la pagina dello sport iniziamo dal Pescara che in questo momento è in vacanza di fatto tornerà a lavorare domani Zaurim e Musciai però è l'ora della pace domani alla ripresa incontro chiarificatore tra l'allenatore e il centrocampista poi via libera al mercato Vido e Falcinelli per l'attacco ritorno di fiamma anche per Gennaro Tutino vediamo altre notizie gran finale con il Futsal Day e le finali di Coppa in basso Tarquini a 57 anni tenta il bis mondiale il pilota abruzzese stavolta ha fatto vincere la corona iridata al compagno di squadra Hyundai un obbligo morale vediamo il Pescara sul quotidiano il centro in realtà sono delle opinioni sul bomber di razza che servirebbe per centrare i playoff vediamo i nomi che girano in ottica bianca azzurra sono quelli di Luca Vido Stefano Moreo Simone Palombi Leonardo Mancuso Federico Merchiorri Marcello Trotta poi vedremo se da questo lotto uscirà davvero il bomber di razza che chiedono tre vecchie glorie del delfino ovvero Stefano Rebonato che dice punterei su Melchiorri conosce l'ambiente si sposerebbe bene con il gioco di Zauri ma non perderei di vista Palombi vediamo l'opinione di Cammarata che dice a me piace tanto Montalto del Venezia sarebbe l'ideale per il 4-3-2-1 la società dovrà fare attenzione a non sbagliare e vediamo Sansovini Melchiorri e Vido sono gli ideali serve una pedina in grado di allungare la squadra un giocatore di movimento tipo la padula altre questioni di mercato che riguardano il Pescara l'arrivo di una punta dipenderà anche dalla cessione di Brunori per non intasare il reparto domani domani la ripresa degli allenamenti come vediamo il Delfino lavorerà al Vestina per tutto il mese perché ci sono dei lavori di manutenzione al poggio degli ulivi e Cosmi intanto un ex tecnico del Pescara si riprende il Perugia torno a casa e ringrazio Oddo siamo in casa Teramo l'ex tecnico Maurizzi dice devi cambiare passo per i playoff l'allenatore del Latina ha costruito una squadra di qualità senza la qualificazione sarebbe una stagione deludente i dirigenti al lavoro per rinforzare l'organico piace il terzino Contess il vice il vice DS della Roma De Santis assiste al test dei Biancorossi contro la Berretti andiamo in casa Teramo anche sul messaggero Teramo arriva Contessa come vediamo nel titolo anche qui le parole di un ex ma ex direttore sportivo del diavolo Antonio Obedio questo è intanto il titolo dice Obedio è una squadra che può fare molto di più è opinione abbastanza consolidata il fatto che il Teramo potesse oggettivamente fare di più nella prima parte del campionato fronte mercato il difensore l'esterno sinistro della Ferralpisalò potrebbe essere inserito anche in uno scambio con Riccardo Martignago con Contessa che verrebbe in Abruzzo e Martignago che andrebbe proprio a Salò intanto Chieti e Vastese posticipo di fuoco siamo già in serie D ma ci proiettiamo a quello che sarà oggi alle 14.30 sul neutro di Ortona il derby tra tanti ex non sarà presente il tifo organizzato Biancorosso intanto però vedete sfogliando pagina Notaresco superstar piegato anche il Vasto Girardi gol di Stivaletta Sanzovini e Liguori la strepitosa vittoria in trasferta 1-3 riscatto dopo la sconfitta in chiusura d'anno grande prestazione di squadra che andiamo a rivedere nel servizio Comincia con un duro banco di prova il 2020 del Vasto Girardi con la sfida la capolista Sanni Colono Teresco mister Farina deve fare i conti con la indisponibilità di Ruggeri Cheremateng e Devizia e si affida alle giocate di Petrone per il regolare svolgimento designato il signor Cannata della sezione di Faenza alto molisani coraggiosi tant'è che producono il primo pericolo per gli ospiti Bruni non riesce a dar forza al suo destro che diventa facile preda di Monti ma alla quarta d'ora passa la capolista Siaulis deve uscire dall'area con un colpo di testa Stivaletta recupera in tempo cosa che non riesce al portiere locale che blocca il pallone quando ha già varcato la linea di porta e siamo sullo 0 a 1 corner per i padroni di casa sbuca Corbo pallone ancora tra le braccia di Monti alla mezz'ora occasione che grida vendetta quella del Vasto Girardi diagonale di Petrone palla sul palo Mino a botta sicura spedisce sull'incrocio dei pali ospiti fortunati nella circostanza al 39esimo di Lullo deve fare le veci di Ruggeri sugli sviluppi di un calcio di punizione ma il portiere Teramano si rifugia in corner al 40esimo premiati gli sforzi del team di Farina Petrone ci delizia con una sua giocata sublime pennellata per Bruni che supera Monti per il punto dell'1 a 1 situazione di parità con la quale le due squadre guadagnano gli spogliatoi nella ripresa punizione in favore dei Rosso Blu calcio frulla sfera lontana dalla porta di Siaulis analoga situazione al 14esimo ci riprova lo stesso frulla l'estremo difensore giallo blu fa suo il pallone al 21esimo ghiotta chance per il vasto girare di Migno lanciato a rete sciupa come peggio non poteva ciò che alludeva glorioso al 32esimo la svolta Sansovini chi altro se non lui poteva inventarsi il gol dell'1 a 2 una marcatura di ammirevole fattura e siamo sul nuovo vantaggio per la capolista ma di lì a tre minuti si prende la scena anche il nuovo entrato Liguori con un'altra perla grazie alla quale la prima della classe prende il largo con un 1-2 micidiale al 38esimo rosso per Pasquale di Lullo chiude in 10 il vasto girardi che esce a testa alta con una sconfitta contro il notaresco ed acquisisce maggiori certezze però in quanto alla lodevole prestazione oltre ad aver chiuso la contesa con ben 7 under in campo in virtù delle pesanti assenze e vediamo l'analisi di questa vittoria del notaresco anzi prima gli spogliatoi come vediamo un bel match ora ci aspetta il campo basso il bomber Sanzovini siamo riusciti a passare in vantaggio nonostante il vento forte Liguori spacca la partita siamo sul centro il notaresco cala il tris la capolista batte il vasto Girardi al Civitelle resta più 9 sulla seconda il Matelica decisivo l'ingresso in campo dell'ex Catania che mette il sigillo sul risultato invece il Pineto è in crisi Amaolo debutta con una sconfitta il cambio tecnico non scuota i biancazzurri che cadono a Fiuggi e Tomassini nel finale fallisce quello che poteva essere il gol del pari per questa trasferta amara che rivediamo nel servizio di Stefano Recanati non comincia nel migliore dei modi l'Amaolo bis a Pineto che esce sconfitto per 2-1 dallo stadio capo Iprati contro l'atletico Terme Fiuggi in una gara in cui l'undici biancazzurro avrebbe meritato il pareggio tutti a disposizione per il mister che si schiera con il 4-3-1-2 in difesa c'è la coppia Pepe Speranza a centrocampo l'esperienza di Stefano Madia con Marianeschi e Campione a gire da mezzali in avanti a quadro agisce dietro le punte Tomassini e Di Gioacchino tutti a disposizione anche per mister Incocciati il quale disegna la squadra con il 4-3-3 in difesa c'è Scalon a centrocampo Falasca Forgione e Papasario in avanti con Bomber d'Andrea ci sono Basilico e Macri il direttore di gara è Negrello di finale Emilia primi 20 minuti di studio tra le due squadre con il Pineto che si fa preferire in fase di possesso palla con a quadro in molte occasioni libero di agire tra le linee ma al 24esimo arriva il primo squillo della gara di marca locale con Papasario che ci prova dal limite ma il suo tiro fa la barba al palo con Amadio Remo immobile alla mezz'ora nitida occasione per il Fiuggi con Forgione che viene liberato da Basilico in aria di rigore ma il tiro del centrocampista Frusinate non inquadra incredibilmente lo specchio della porta due giri di lancette e a rispondere è il Pineto coast to coast di a quadro che entra in aria di rigore e serve di Gioacchino ma il classe 2001 pecca di cattiveria sotto porta così sfuma un'occasione d'oro per i ragazzi di Amaolo la gara diventa vivace ma è un errore in uscita degli Adriatici a spianare la strada del vantaggio locale ma l'inteso tra Tomassini e Amadio in mezzo al campo ne approfitta il Fiuggi che va subito al cross con Forgione in aria di rigore dove il rompe d'Andrea che testa batteremo Amadio la risposta del Pineto è tutta al 42esimo in una punizione calciata alta da quadro la ripresa propone subito una novità nelle fila del Pineto c'è in campo d'Angelo al posto di Camplone il Pineto ci prova subito a rientrare in partita ma il tiro di Amadio dal limite è facile preda di Kingari poi la volta del Fiuggi con D'Andrea anche lui dal limite che impegna a terra l'estremoremo Amadio al quarto d'oro buona occasione per il Pineto prima è a quadro dal limite ad impensierire Kingari che si rifugia in angolo dalla bandierina è sfortunato il Pineto con il palo colpito da Di Gioacchino il Pineto spinge con più convinzione in questo secondo tempo chiudendo il Fiuggi nella propria metà campo Amalo crede nel pareggio ridisegnando la squadra passando al 4-4-2 al 36esimo però è ancora Fiuggi a farsi vedere in avanti questa volta con il centrocampista Papaserio che al volo non inquadra lo specchio della porta ma il Pineto non si dà per vinto e perviene al pareggio al 38esimo punizione del neoentrato Simoncelli il quale pesca in aria l'altro neoentrato festa bravo di testa a incrociare la palla e battere i Kingari il Pineto a questo punto vede la possibilità di portare a casa il pareggio ma da un fallo in una zona morta del campo ne viene fuori una punizione che fa la scapennella in aria per la sponda aerea di un suo compagno verso il secondo palo dove è appostato ma al cinquantesimo l'occasione del pareggio capita sui piedi Tomassini che si divora il gol del possibile 2-2 finale finisce con la rabbia del presidente Brocco e con il Pineto che dovrà tornare subito a lavorare per affrontare nel migliore dei modi il derby casalingo contro il Chieti e torniamo sul messaggero adesso il Pineto spreca il gol del pari come abbiamo visto debacle a Fiugi il match finisce 2-1 rete di festa e come abbiamo visto sbaglia Tomassini ma come vediamo in questa pagina ovviamente amplissimo spazio al Giulianova pareggio però con l'amaro in bocca il Real in casa non va oltre l'1-1 contro il Porto Sant'Elpidio la rete di Cesario la peggiore partita della stagione mai vista al Fadini di buono c'è solo il punto e Bartolini non guarda neanche la gara polemica senza il numero 1 del grosso dice segnali di stanchezza stesso copione in negativo dell'incontro col Tolentino espulso nel finale proprio Cesario che aveva segnato il gol dell'1-0 rivediamo questo invece 1-1 nel servizio di Paolo Renzetti dopo tre sconfitte consecutive con un solo punto all'attivo conquistato nelle ultime quattro gare il Giugnanova inizia il 2020 con un pareggio che non può far fare salti di gioia e che conferra il momento difficile per la formazione del presidente Bartolini che resta così imbischiata in zona rischio Alfadini giallorossi si presentano con la novità di Bifulco in porta squalificato Barlafante in attacco spazio al giovane Cesario si comincia al piccolo trotto e con tanto equilibrio e con le due squadre che si annullano affrontandosi nella zona di centrocampo al 29esimo al primo vero affondo la squadra di casa si porta in vantaggio con Federico Di Paolo che inventa e con Cesario che si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol del vantaggio e primo assoluto per l'ex attaccante della Bagica Lupo Vasto in Serie D esplode l'esultanza dei tifosi giuliesi per un gol importante che rompe l'equilibrio di una gara davvero molto molto difficile per i padroni di casa e ci crede la squadra del tecnico del grosso che al 34esimo si rende nuovamente pericolosa con Cipriani che prova a trovare il gol della domenica con la sfera che non inquadra però lo specchio della porta la reazione dei marchigiani si fa attendere ma al 37esimo Cucu tutto solo davanti a Bifulco si fa respingere il suo tiro dal prodigioso intervento dell'estremo locale il match ora è vivace con le due squadre che si allungano e con le emozioni che aumentano al 39esimo si rivede il Giulianova con Federico Di Paolo che mira l'incrocio e con Gagliardini che però reattivo andando a deviare il pallone in calcio d'angolo ultimazione del primo tempo targata ancora Giulianova con Torelli che in area bianca-azzura controlla e tira mettendo di un soffio alto nella ripresa al nono subito pericolosi gli ospiti con il neoentrato Niane che in area vede il suo tiro deviato finire in calcio d'angolo gli ospiti però appaiono determinati al secondo tentativo trovano al 19esimo il pareggio c'è un tiro di Ruzzi che viene respinto da Bifulco con Niane che è il più lesto di tutti con il tapin vincente che regala alla sua squadra il gol del pareggio doccia gelata è per i padroni di casa che accusano il colpo non riuscendo più a rendersi pericolosi anche a causa di un calo fisico cerca così di approfittare invece la formazione bianca-azzura che al 35esimo una ghiotta occasione con Ruzzi che con un tiro violentissimo sfiora il palo della porta Giuliese dopo una bambola di Bifulco e compagni passano i minuti con i locali che soffrono riuscendo però al 41esimo a rendersi nuovamente pericolosi con Cesario che ha una buona opportunità con la sua conclusione che però non inquadra lo specchio della porta marchigiana 90 secondi dopo l'attaccante Giuliese va a commettere fallo sugnane lanciato in contropiede rimediando il rosso diretto lasciando i suoi compagni in 10 in un finale di partita che non regala però altri sussulti con i ragazzi del tecnico del grosso che escono dal campo al 95esimo tra i fischi dei propri tifosi delusi dalla prova offerta dalla squadra Giulianova che dovrà invertire la rotta ad iniziare già dal derby di domenica prossima all'Aragona di Vasto vergogna e Cesario fa centro come vediamo sul centro ma per il Giulianova è solo un'illusione l'atletico Porto Santelpidio come avete visto agguanta l'1-1 e sfiora il sorpasso esordio per Gifford mentre Cesare il bomber giallo-rosso è stato espulso nel finale Giglio dice atteggiamento sbagliato l'allenatore in seconda del grosso era squalificato ammette che c'è stato un calo nella ripresa l'Avezzano invece si rialza due gol dopo il novantesimo per un pari d'orgoglio di Gian Felice con un gioiello in acrobazia e Agate su rigore a Campobasso raddrizzano una gara ormai compromessa allora riviviamo anche questa gara quella del nuovo Romagnoli due a due tra Campobasso e Avezzano follia della Befana per il Campobasso che impatta contro un Avezzano non eccelso dal punto di vista tecnico a cui si riconosce il merito di averci creduto fino all'ultimo secondo finisce due a due con gli ospiti che pareggiano nelle battute finali di gara giornata gelida circa mille spettatori una manciata da Avezzano la curva nord-scorrano tributa un pensiero a Nicoletta Valente sfortunata tifosa del Campobasso deceduta nella notte di Natale per una tragica fatalità dirige il signor Rispoli di Locri a cominciare meglio sono gli ospiti vicini al gol al terzo la punizione di Quadrana la pala carambola sulla testa di Candelori che rischia seriamente di segnare nella porta sbagliata dal corner che ne segue i rossoblu sono un po' svagati dopo una serie di rimpallici alla conclusione di Di Curzio respinta secondo gli Avezzanesi con un braccio da Candelori gli ospiti chiedono a gran voce il calcio di rigore ma Rispoli fa capire che è tutto nella norma al tredicesimo azione veloce di rossoblu da Alessandro a Candelori che riesce ad allargare per Zammarchi il quale conclude e segna favorito senza dubbio dalla deviazione di Magri che mette fuori causa Camerlengo secondo gol consecutivo per l'attaccante Bebi rossoblu il campo basso è in partita e potrebbe già vissare al ventesimo e Cogliati a intraprendere un'azione personale dopo aver saltato Magri riesce ad andare via Di Giacomo la corsa prosegue una volta in aria la punta di casa manda fuori di un soffro ventottesimo velo di Alessandro per Cogliati che conclude il tuffo di Camerlengo nega il gol i rossoblu meritano di trovarsi avanti al trentaseiesimo palla per il destro di Alessandro con sfera non di molto a lato al nono scalda il destro Alessandro risponde presente Camerlengo quattordicesimo il campo basso ipoteca la vittoria ingresso di Alessandro in aria e passaggio orizzontale mal gestito dalla difesa ospite ne approfitta Candelori che calcia incontrando la deviazione del legno ed un balletto della palla sulla linea di porta prima che il cuoio varchi la linea fatidica 2 a 0 con gol di uno dei più volitivi della squadra Natale sugli scudi al trentatresimo spazio interessante in area per Agate respinto sul primo palo dal portiere di casa il campo basso si riserva altri spunti nel finale siamo al novantesimo quando si potrebbe triplicare Camerlengo a servire involontariamente Musetti il quale sbaglia nel servizio successivo ad Alessandro e non calcia in porta 92esimo traditi dell'Avezzano viene espulso per somma di ammunizioni causa un fallo su Candelori nel recupero succede l'imponderabile comandati 6 minuti il campo basso involontariamente prepara la frittata a se stesso al 94esimo da una punizione dalle retrovie salta Magri favorendo la sforbiciata di Dijan Felice che vale il primo gol ospite il gioco riprende e di rosso blu accusano un minuto di follia al 96esimo vedete come Candelori non riesca a controllare un pallone poi amministrato e lanciato da Cancelli all'indirizzo di Agate su cui in area di rigore Pistillo Frana l'arbitro indica il dischetto a Selvapiana se possibile il gelo aumenta dal dischetto Agate che segna il punto del clamoroso 2 a 2 non c'è più tempo l'arbitro decreta la fine eh sì dunque due a due le parole anche di Antonio Mecomonaco che dice bisogna migliorare la fase offensiva la richiesta alla squadra coltello tra i denti per risalire la classifica ma come avete visto oggi è il giorno di Chieti Vastese Chieti lancia favola Vastese con Cardinale Nero Verdi fanno debuttare il centrocampista e Camarà Amelia Sceglie il Bebi Terzino Vittorio Esposito verso la panchina vediamo la probabile di entrambe il Chieti Bruno Fantauzzi Chiocchia Brugaletta Di Cillomeola Favo Camarà Sarrizzu Sivilla Traini andiamo in casa Aragonese Bardini Marianelli Di Filippo Cacciotti Cardinale Bardini Pizzutelli Ravanelli Palumbo Dos Santos Esposito vedremo se sarà Così ore 14.30 il fischio d'inizio intanto il Castelnuovo ingrana la quarta partita dominata dall'inizio alla fine siamo in eccellenza i Nero Verdi liquida con un poker 4-0 l'Alba Adriatica Di Fabio dice vittoria ampia e meritata Montielli invece stende la Torrese siamo in casa Nereto con un pallonetto d'autore la spoltore Tris di Vittoria e quarto posto solitario vediamo in basso il successo dell'Acqua e Sapone sull'Angolana doppietta perpetito la Gizialuco punisce 1-0 il Delfino e mette piede in zona playoff Capistrello poco concreto ultimi minuti fatali al Sambuceto al Paterno invece non bastano i rinforzi sorridono ancora i Nerostellati 1-1 tra Penne Virtus Cupello un rigore salva il Cupello nel finale il Penne vede sfumare tre punti Lanciano oggi al comunale di Castellalto senza Verna e Petrone per la sfida al Ponte Vomano eccellenza che troviamo ritroviamo anche sul messaggero eccolo qua un poker del Castelnuovo l'Alba Adriatica finisce K.O partita senza storia tra la capolista e la seconda in classifica terzo successo di fila per lo spoltore Benerangizia perde la Torrese il Lanciano oggi a Villavomano Marfisi torna in Rosso Nero siamo in casa all'Aquila dunque in promozione Catalli l'Aquila è la favorita ma serve sudare ieri intanto vittoria di Montorio e Mutignano e la graduatoria è immutata mercato di lettanti come vediamo tanti acquisti tra eccellenza e promozione andiamo a vedere per chiudere il basket andiamo in casa Roseto perché Sharks Roseto inguardabili ma in gara Imola 84 a 62 per Imola che entra nei playoff Roseto paga la mancanza dei cecchini 1 su 20 da 3 punti sera taccia per la formazione di Dark Angeli Bobby Jones sfiora la doppia doppia ma non basta decisiva la flessione nel terzo quarto e poi invece per il volley l'anno parte male per la Sia Cortona secco K.O. Mondoviglio ortonesi di lanci contro penultimo usciti sconfitti 3 a 1 torniamo al basket Teramo e Chieti in serie B sorridono mentre Giulianova finisce K.O. in basso per il rugby Rottiglio Paganica sarà dura vincere il campionato bene siamo arrivati in conclusione di questo appuntamento con Mattino 6 io vi ricordo alle 14 la prima delle tre edizioni del nostro telegiornale Mattino 6 invece torna domani puntuale alle ore 8 è tutto buona giornata e buona epifania Grazie a tutti